Stasera una bella dorada, abbiamo fatta nel forno ad aria, friggitrice ad aria, mi correggi mia moglie e adesso vediamo come è venuta, cotta e sicuramente abbiamo fatta stare mezz'ora perciò sarà sicuramente gustosissima e ce la mangiamo con queste due belle freselle e con il caviale calabrese e un po' di tabasco fatto da me nemmeno guasta vedete ok buon appetito buona cena e buona serata a tutti quanti questo ve lo posto anche su youtube per farvi vedere questa bella pietanza questa bella cenetta ciao vi dico che è una cosa speciale dopo vi scrivo come l'ho fatta nella ricetta che posterò amoro com'era buonissima l'ho finita subito infatti mia moglie già è all'altro piatto vedete io ancora me lo sto gustando perché troppo troppo buona fatela 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 che sicuramente vi dilettate allora la dorade al forno 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 friggitrice ad aria o forno se mettete nel forno è chiaro viene lo stesso forse viene ancora meglio 180 ce l'abbiamo fatta stare mezz'ora perché era veramente una grossa una grossa dorada che in italiano ma non mi viene come si chiama la dorada grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti